Buongiorno Deido, lunedì sera Roberto Baldoni si è dimesso da direttore dell'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale una carica che copriva da quando l'agenzia era stata creata nel 2021 Baldoni è professore ordinario di informatica alla Sapienza di Roma dal 2002 e nel 2011 ha fondato il primo centro di ricerca in Italia dedicato alla Cyber Security poi nel 2014 il Laboratorio Nazionale di Cyber Security e poi dal 2017 al 2021 è stato vice direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza il DIS che è l'organo che coordina i servizi segreti italiani e anche collaborato con l'Unione Europea e la Nato per questioni relative alla Cyber Security quindi il governo Draghi nel giugno del 2021 istituisce l'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale e assegna direttamente al Presidente del Consiglio la direzione e la responsabilità generale delle politiche per la Cyber Security e la scelta del Direttore Generale cade proprio su Baldoni per la sua esperienza internazionale e per il ruolo che già ricopriva al DIS una scelta di alto profilo che faceva ben sperare per l'attività della neonata agenzia e invece il 2022 non è andato bene come si poteva sperare e secondo il rapporto annuale del Clusit ci sono stati 188 attacchi informatici a strutture del nostro paese con un incremento del 169% su anno mentre la crescita a livello mondiale è stata del 21% e la gestione della comunicazione dell'agenzia non è stata delle migliori ricordo solo l'episodio di cui abbiamo parlato anche qui al podcast l'attacco informatico che ha colpito migliaia di server VMware ESXi nel mondo il 5 febbraio 2023 l'agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale aveva emesso un comunicato il giorno dopo per avvertire le possibili vittime e fornire indicazioni per mitigare il rischio ma questa comunicazione è stata criticata da alcuni esperti osservatori per aver creato un allarme eccessivo e ingiustificato infatti l'attacco hacker sarebbe stato molto meno dannoso del previsto e avrebbe riguardato solo una parte dei server VMware che non erano aggiornati con l'ultimo patch di sicurezza inoltre l'agenzia non avrebbe fornito le prove concrete della responsabilità dei gruppi filorussi come NonAIM 057 che invece erano stati indicati come i principali sospetti e che infatti hanno commentato sul loro canale Telegram le dimissioni di Baldoni con entusiasmo e rivendicando il merito di aver contribuito a farlo cadere secondo alcune fonti Baldoni avrebbe lasciato il suo incarico a causa della mancanza di risorse economiche e umane per svolgere al meglio il suo ruolo l'agenzia avrebbe infatti ricevuto solo una parte dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il PNRR e avrebbe dovuto fare i conti con una carenza di personale qualificato inoltre Baldoni avrebbe subito delle pressioni politiche da parte di alcuni esponenti della maggioranza che lo accusavano di non aver gestito adeguatamente proprio la minaccia degli attacchi informatici provenienti da gruppi come appunto NonAIM 057 sia Repubblica che Wired hanno scritto di divergenze tra l'ormai ex direttore e l'attuale governo e che le dimissioni sarebbero una mossa che fa seguito a crescenti contrasti e che arriva prima della sostituzione per mano del governo stesso Meloni cerca un profilo diverso non un tecnico esperto del settore ma una figura più carismatica e legata alla politica si fanno i nomi di Bruno Frattasi, attuale prefetto di Roma e di Carlo Massi, magistrato della Corte di Conti e consulente della Difesa a questo punto il governo punta a indicare in tempi stretti il nuovo direttore dell'agenzia e la nomina potrebbe arrivare già oggi al Consiglio dei Ministri che si terrà a cutro la questione della Cyber Security è sempre più rilevante e urgente per l'Italia che deve affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione e dalla competizione internazionale l'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale ha il compito di coordinare l'attività di prevenzione, protezione e reazione agli attacchi informatici che possono mettere a rischio le infrastrutture critiche le istituzioni pubbliche e gli stessi cittadini per svolgere questo ruolo in modo efficace ed efficiente l'agenzia ha bisogno di risorse adeguate, di autonomia operativa e di una visione strategica condivisa tra i vari attori coinvolti peraltro faccio notare che la linea del governo sulla Cyber Security è un pochino difficile da seguire perché a gennaio è stata presentata a Roma la Cyber Security Italy Foundation alla presenza di numerosi esponenti della pubblica amministrazione e proprio dell'Agenzia per la Cyber Sicurezza e questa è una fondazione no profit che ha lo scopo di creare, dice il comunicato una piattaforma che consenta al cittadino di segnalare situazioni, dubbie e rischi rispetto a potenziali attacchi nella sfera digitale è un osservatorio operativo che mappi competenze e professionalità nel paese del settore cibernetico e individui le migliori tecnologie italiane in materia insomma uno si può chiedere perché hanno creato questa fondazione quando esiste già l'agenzia quindi vedete che c'è parecchio casino spiace comunque vedere che un settore che dovrebbe essere lasciato in mano a tecnici esperti e con una buona dose di divulgazione tecnica che spieghi ai cittadini cosa succede e come reagire e invece è fagocitato dalle logiche politiche solite che purtroppo conosciamo molto bene cosa succederà adesso? Lo vedremo forse già oggi arriveranno aggiornamenti interessanti magari settimana prossima ci torniamo sopra perché io domani di sicuro non ci sarò ed era anche tutto quindi grazie per avermi seguito fin qui ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao